Nella cinematografia italiana c'è un determinato periodo di cui anche comprensibilmente si intende non si parla quasi mai, ovvero il periodo fascista, costituito dal cosiddetto cinema dei telefoni bianchi ma anche dai film propagandistici, film bellici di propaganda. Argomento molto insidioso, buonasera a tutti, ben ritrovati su CanoTV, io oggi non vi parlerò di politica, non ve ne parlerò perché la politica non mi piace, non mi interessa e non la conosco. Cercherò però di parlarvi, cercherò, sottolineo il termine, cercherò di parlarvi di un film italiano diretto nel 1942, attenzione, la stessa data d'uscita di Casablanca, interessante anche perché i due film, se vogliamo, hanno delle similitudini se non altro per il periodo in cui si ambientano la seconda guerra mondiale e l'ambientazione nordafricana. Dicevo, cercherò di parlarvi di un film italiano del 1942 diretto da Augusto Genina che è stato uno dei più importanti esponenti del cinema fascista ma più in generale è stato un anticipatore del neorealismo anche nel film di cui vi parlerò oggi ci sono insomma alcune diciamo caratteristiche ecco che lo rendono in qualche modo simile a quello che poi sarà di lì a tre anni insomma da Roma città aperta in poi il neorealismo italiano. Dicevo, Augusto Genina più in generale è stato uno dei più interessanti cineasti italiani del periodo, ha iniziato a dirigere nell'epoca del muto ed è finito per dirigere persino Louise Brooks, la grande diva del muto, Lulu diciamo che aveva un sodalizio artistico e umano con George Wiley in pubs e dalla quale poi Guido Crepax ha tratto ispirazione per il personaggio fumettistico di Valentina. Dicevo oggi vi intendo parlare di Bengasi del 1942 realizzato in piena campagna nordafricana, film molto interessante perché racconta di fatti che si stavano svolgendo in quel in quel preciso momento storico con protagonisti Fosco Giacchetti e Amedeo Nazari ma c'è anche un cast molto interessante ne parleremo fra poco che include, ve ne dico una, insomma Vivi Joy, grandissima attrice dell'epoca, una delle vive più celebrate, diciamo, del periodo, racconta, diciamo, la campagna nordafricana in Libia naturalmente a Bengasi con la riconquista italiana della città che era passata per un breve periodo sotto il controllo inglese da parte appunto degli italiani e lo fa con alcune degli italo-tedeschi in realtà, infatti ci sono alcune sequenze soprattutto nel finale di questo film, nella versione originale, attenzione, di questo film perché nel 1955, quindi diciamo a dopoguerra concluso, ecco, il film venne in qualche modo rieditato con l'aggiunta di un prologo e di un epilogo che io non ho visto perché io in dvd posseggo la versione originale che era stata originariamente concepita da Genina, dicevo il film venne rieditato con l'aggiunta di un prologo e di un epilogo in cui il personaggio di Vivi Joy si, diciamo, sposava, ecco, con un soldato inglese. Questo prologo e questo epilogo vennero aggiunti per cercare di rendere più appetibile il film al pubblico del dopoguerra. Nella versione originale il film si conclude con una, diciamo, con una sequenza, ecco, trionfante con le bandiere italiane che sfilano accanto alle svastiche naziste nella Benghazi, liberata, tra virgolette, ma in realtà riconquistata dagli italiani, per cui un film decisamente difficile da digerire, ecco, da molti, oggi come oggi. In realtà però è uno dei film di propaganda bellica meno estremi, ecco, meno esagerati nella loro ideologia perché ci sono molti film del periodo che sono molto più estremi e se noi pensiamo, se vogliamo, anche ad alcuni film americani, no, dell'epoca di propaganda, magari con John Wayne protagonisti, ci rendiamo conto che in realtà questo Benghazi non era neanche poi così tanto esagerato rispetto, appunto, ad altre opere dell'epoca. Dicevo, il film in realtà, nonostante l'autarchia, diciamo, fascista, ha una matrice hollywoodiana perché discende da opere come Grand Hotel, per esempio, no, con John Crawford, con John Barrymore, con Greta Garbo, ovvero quei film che presentavano un meccanismo a episodi che in qualche modo si andavano ad intersecare. Infatti il film segue le vicende di alcuni personaggi, vicende che poi appunto finiscono per legarsi, per intersecarsi fra loro. E così veniamo a conoscenza del capitano Enrico Berti, che è interpretato da Fosco Giacchetti, che appunto nel trambusto dell'entrata a Benghazi degli inglesi è costretto a separarsi dalla moglie ungherese, che è interpretata da Maria Tasnadi e dal loro figlio. Ma seguiamo anche le vicende dell'ingegnere Filippo Colleoni, interpretato da Amedeo Nazari, che in realtà passa informazioni agli italo-tedeschi e che conosce una dottoressa di nome Giuliana, interpretata da Vivi Joy finendo per innamorarsene. Il film poi offre anche alcune altre, diciamo, storie, ecco, parallele, minori, che comunque si fungono, diciamo, da cornice, come ad esempio quelle riguardanti alcuni soldati, c'è chi perde la vista ma ritrova in qualche modo poco felice i genitori, e c'è anche chi si nasconde in una casa di tolleranza, finendo poi per innamorarsi di una prostituta. Diciamo che il film appunto ha dei chiari intenti propagandistici che sono ancora oggi molto evidenti, e allora perché guardare questo film? Guardare questo film che venne anche abbastanza stroncato da Michelangelo Antonioni all'epoca della sua uscita nel 1942, che, diciamo, puntò il dito, ecco, contro i personaggi e contro le interpretazioni degli attori in questione, quindi Giacchetti, Nazari e via dicendo, definendoli poco in parte con i personaggi appunto che andavano ad interpretare. Io invece trovo che il film sia interessante proprio per le interpretazioni degli attori protagonisti. Questo film, in realtà, che io avevo recuperato appunto in DVD parecchio tempo fa, l'avevo visto anni addietro e lo ricordavo molto poco, lo ricordavo come molto noioso. L'ho riguardato appunto ieri sera e l'ho trovato in realtà molto interessante, soprattutto dal punto di vista delle interpretazioni attoriali. Abbiamo due attori molto importanti per l'epoca in questione, ovvero Fosco Giacchetti, di cui io in realtà ho visto pochissimo, ma voglio citare almeno lo squadrone bianco, che almeno per quanto riguarda quel rigore geometrico, diciamo, che c'era nella grafica di quel film, nella fotografia di quel film, era un lavoro molto interessante. Fosco Giacchetti è stato uno degli attori più attivi, diciamo, del ventennio fascista, interpretava dei personaggi molto rigidi, tipici di quella virilità, diciamo, dell'epoca, che era sdoganata all'epoca, e in questo film interpreta un ruolo che sarebbe tranquillamente potuto andare a Humphrey Bogart se il film fosse stato di produzione hollywoodiana. Un attore a cui forse mancava una certa ironia, diciamo, nel modo di recitare, nella caratterizzazione dei personaggi che gli venivano assegnati, che invece c'era in Amedeo Nazari, il grandissimo Amedeo Nazari, che, diciamo, attraversò, ecco, con grande dignità quel periodo cinematografico, ma che poi seppe reinventarsi anche nei successivi generi, diciamo, che il cinema italiano avrebbe proposto. Citiamo, per esempio, Catene oppure Tormento, quei grandi melodrammi che lo ebbero protagonista, spesso diretti da Raffaele Matarazzo, in cui Amedeo Nazari recitava spesso e volentieri al fianco di Yvonne Sanson, attrice celeberrima dell'epoca, ma Amedeo Nazari fece anche una grande, diciamo, comparsata, ecco, nel cinema felliniano, in Le notti di Cabiria, dove con quel meraviglioso personaggio prese anche un po' in giro, no, se stesso e la sua immagine che l'aveva reso celebre, appunto, nel cinema di stampo fascista. Ma, insomma, Amedeo Nazari è stato un attore molto interessante, in grado di interpretare anche film molto particolari, come ad esempio Il Bandito, film molto curioso, incrocio tra il noir, tra il neorealismo, tra il neorealismo rosa, se vogliamo, anche tra il melodramma, appunto, in cui recitava il fianco di una Anna Magnani incredibile, ma, insomma, anche il brigante musolino, per esempio, con Amedeo Nazari sul brigantaggio, piuttosto che quelli della montagna, altro film, appunto, di propaganda, se così vogliamo. Insomma, Amedeo Nazari è stato un grandissimo protagonista del nostro cinema, oggi purtroppo poco ricordato, ma è un attore, secondo me, molto interessante, che ha appunto saputo attraversare sempre con grande dignità periodi cinematografici anche molto diversi, molto diversi fra loro, uscendone in qualche modo sempre molto bene. Qui Amedeo Nazari fa un'ottima interpretazione, molto interessante ancora oggi, e fa un'ottima interpretazione anche Fosco Giacchetti, al quale forse sono assegnate le parti più drammatiche del film, c'è una sequenza in cui viene a sapere, io vi faccio questo spoiler, ma in realtà non è neanche chissà quale grande spoiler, perché è una sequenza che avviene nella prima parte del film, dove apprende che suo figlio è caduto sotto una raffica di mitra, diciamo. Quindi è un momento molto drammatico del film che Fosco Giacchetti riesce a rendere molto bene pur non abbandonandosi al pianto, perché naturalmente eravamo in un'epoca in cui l'uomo sul grande schermo non poteva piangere. Piangono invece le donne, le donne che sono bravissime, queste attrici di questo film sono veramente brave. Vi ho anticipato prima di Vivi Joy, la grandissima Vivi Joy, che era una diva dell'epoca, interprete di tante pellicole, qui appunto interpreta una dottoressa, una ricercatrice, qualcosa del genere di nome Giuliana, che finisce per innamorarsi di Amedeo Nazari, del personaggio di Amedeo Nazari, fino poi ad arrivare a dubitare della sua onestà, diciamo, quando vede che sembra fare insomma il doppio gioco con gli inglesi, anche se poi noi veniamo successivamente a sapere che in realtà si tratta di un agente segreto che sta passando informazioni agli italo-tedeschi. Bravissima poi Maria Tasnadi, che era un'attrice di origini ungheresi, che qui interpreta proprio la moglie di origini ungheresi del personaggio di Fosco Giacchetti, alla quale forse appunto sono riservate le scene più drammatiche, veramente un'attrice molto intensa, che qui riesce davvero ad emozionare e a restituire una certa intensità appunto neorealista al film. Infatti si avverte un po' lo stampo che poi sarà tipico del filone neorealista, che appunto si svilupperà di lì a poco, dal 1945 in poi con Roma Città Aperta e poi con altri capolavori come Umberto D, piuttosto che Ladri di Biciclette, Riso Amaro e via dicendo. Completano il cast anche Laura Redi nei panni di una prostituta, anche se in realtà la prostituzione viene naturalmente, comprensibilmente, vista l'epoca, trattata in maniera molto romanzata, ecco. Mettiamola così. E altri che compongono appunto il cast sono, giusto così per citarli, naturalmente, Fedele Gentili, Carlo Tamberlani, Guido Notari, Anna Arena, Giulio Panicali, Silvio Bagolini, caratteristi spesso presenti nella cinematografia dell'epoca, addirittura Galeazzo Benti, che è stato un caratterista molto importante nella cinematografia fascista e non solo, anche molto presente appunto nel cinema italiano degli anni 50, 60 e 70. C'è anche Carlo Duse nel cast di questo film, che era cugino di Eleonora, Eleonora Duse naturalmente. Quindi perché guardare Ben Gase, nonostante appunto i chiari e giustamente, fortunatamente superati, gli intenti politici, insomma le superate ideologie politiche, perché è un film registicamente molto interessante. È forse il primo film bellico moderno della cinematografia italiana, lo stampo hollywoodiano c'è, sia nella stesura della sceneggiatura con queste storie parallele che finiscono per intersecarsi, ma anche in una certa visione della guerra che deriva chiaramente dai film bellici statunitensi. E soprattutto per alcune grandissime interpretazioni, a mio avviso, in netta contrapposizione con quel che disse il grandissimo Michelangelo Antonioni, naturalmente, di attori che erano veramente molto bravi e che alcuni di essi poi appunto seppero ricucirsi, come nel caso di Amedio Nazari, anche dei ruoli in generi cinematografici, in periodi e generi cinematografici completamente differenti. Il film dura circa un'ora e mezza. Il film è molto interessante anche perché oltre ad essere un precursore del neorealismo, secondo me getta le basi anche per alcuni sottogeneri italiani che ci sarebbero poi stati successivamente, come ad esempio appunto il melodramma. Il melodramma cinematografico italiano che avrebbe avuto il suo epice, mi pare, nel 49-48-49-50 o giù di lì con Catene, appunto, con protagonisti Amedeo Nazari e Yvonne Sansone, diretti da Raffaele Matarazzo, uno dei, un altro, insomma, dei più, dei più grandi incassi, diciamo, del cinema italiano. Bengasi rappresentò anche uno sforzo immane per la cinematografia italiana dell'epoca in quanto vennero ricostruiti interi quartieri, diciamo, di Bengasi a Cinecittà, vennero riutilizzati alcuni mezzi militari italiani che vennero spacciati per inglesi, anche perché dato il periodo c'era non poca difficoltà nel reperire mezzi militari inglesi, mezzi militari nemici e, insomma, per tutti questi motivi, secondo me, uno sguardo a Bengasi bisogna darlo, anche per una questione di memoria storica, se così vogliamo, perché io credo che sia importante non dimenticare la storia, anche nei suoi, diciamo, risvolti meno felici, insomma, anche nei risvolti che ci rendono meno orgogliosi, naturalmente, lo dicevo prima, insomma, vedere il tricolore o quello che era all'epoca il tricolore italiano accanto alla svastica sicuramente non fa piacere, però secondo me è importante conservarne la memoria per non dimenticare. Io vi ringrazio per la visione di questo filmato, se conoscete questo film, se l'avete già visto, se, insomma, se lo conoscete, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sono curioso, è un film molto controverso, molto discusso, ma io tutto sommato, per i motivi che vi ho testè elencato, mi sentirei di consigliarlo. Grazie per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao!